Per Bremer ci sono stati dei contatti continui tra l'agente del giocatore e il Torino e così l'Inter può con 30 milioni fissi e alcuni bonus cercare di chiudere l'operazione per l'inizio della settimana prossima in modo poi da poter fissare le liste mediche. Torino ha accettato l'offerta della Juventus per Gleison Bremer, quindi Torino e Juventus hanno l'accordo per il difensore. Oh Sì, 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 sì Walk on through a red parade and refuse to make amends It cuts deep through our ground and makes us forget all consents Don't speak as I try to leave, cause we both know what we choose If you pull, then I push too deep, then I fall right back to you Cause you are the piece of me, I wish I didn't need Chasing relentlessly, still fine and I don't know why If I have insanity, why are you my remedy? If I have insanity, why are you my clarity? If I have insanity, why are you my remedy? Oh my God I'll see you next week